Weekend di celebrazioni anche in provincia di Pavia per i Vigili del Fuoco in occasione della festa di Santa Barbara nel capoluogo. La Santa Protettrice dei Pompieri è stata celebrata presso la chiesa di Sant'Alessandro e nel corso dell'evento sono state assegnate quattro croci di anzianità ad altrettanti operatori per aver prestato 15 anni di servizio all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Festa anche a Vigevano e Voghera, in Oltrepò, dove le celebrazioni si sono tenute sabato e anche nella piccola Broni. Anche qui sono stati forniti i dati sugli interventi svolti nel corso dell'anno, ormai al termine. Il solo comando dell'Oltrepò orientale ha svolto dal primo gennaio scorso 615 interventi, di questi più di 200 sono stati dedicati a spegnere incendi, soprattutto la scorsa estate a causa della straordinaria siccità. Per 90 volte invece i Vigili del Fuoco di Broni sono usciti in situazioni di pericolo idrogeologico, come nel corso delle alluvioni di fine luglio, mentre gli interventi di soccorso per incidenti stradali sono stati 68. Un numero analogo di uscite è stato dedicato invece al soccorso di persone all'interno di abitazioni private. Altri interventi, meno frequenti, riguardano poi la messa in sicurezza dopo allagamenti o fughe di gas o monossido, la bonifica dei nidi di calabroni, il salvataggio di animali e l'assistenza alle forze dell'ordine. Grazie 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 Grazie